Gentili telespettatori, buona giornata. Che cosa avrebbe dovuto fare il Ministero dell'Interno, l'Alamorgese, quando viene a conoscenza che ci sono delle persone che stanno cospirando in maniera eversiva contro lo Stato democratico, contro la Repubblica? Quando i servizi segreti informano il Ministero che diverse persone organizzate stanno cospirando contro la Repubblica e pianificano un attacco agli organi centrali dello Stato come il Parlamento, il Senato, Montecitorio, Palazzo Chigi, la sede dei sindacati CGL, quando i servizi di sicurezza vengono a conoscenza di questo e quando si viene a conoscenza anche diversi giorni prima, perché lo scrivono in internet, il Ministero dell'Interno avrebbe dovuto chiamare e richiedere l'intervento immediato dei nuclei operativi centrali di sicurezza, con l'acronimo INNOX, è un reparto speciale della Polizia italiana per operazioni ad alto rischio e dipende dalla direzione centrale della Polizia di Prevenzione, che nasce nel 1978 e contrasta il terrorismo in Italia, è specializzato nella liberazione di ostaggi, cattura di pericolosi criminali e servizi di sicurezza. I nuclei operativi centrali di sicurezza sono in grado anche di liberare il Parlamento e gli organi centrali dello Stato e i quartieri governativi della Repubblica da colpi di Stato e da sommosse e anche da irruzioni, tentativi di criminali da parte di gruppi organizzati che cercano di sovvertire lo Stato democratico. Dal 2004 vengono anche identificati INNOX come forze speciali italiane. Sono uomini della Polizia di Stato altamente specializzati, in grado di liberare il Parlamento in caso di occupazione, di difendere il Presidente della Repubblica e gli organi centrali dello Stato di difendere i ministeri. Quindi a questo punto, vista l'informativa che avrà ricevuto la Lamorgese riguardo a quello che stava per succedere, gruppi organizzati tramano contro la Repubblica, pianificano di assaltare Palazzo Chigi, Montecitorio, impossessarsi del Parlamento, avrebbe dovuto il Ministero chiamare immediatamente le forze speciali, i reparti speciali dei INNOX che sarebbero intervenuti nella manifestazione del 9, arrestando immediatamente i cospiratori. Questo avrebbero dovuto fare. Non so se vi ricordate tanto tempo fa, quattro imbecilli su un carro armato a Venezia si erano presentati separatisti. Sono arrivati immediatamente i nuclei operativi centrali di sicurezza, i INNOX, e hanno tirato fuori dal carro armato, residuato bellico, questi quattro deficienti che tremavano. Non so se vi ricordate. Pertanto manifestazione o no avrebbero dovuto chiedere l'intervento delle forze speciali italiane che avrebbero arrestato immediatamente i cospiratori e portati per direttissima davanti la giustizia. Ma la storia è andata diversamente. Arrivederci a tutti e grazie.